100 commenti e 1000 like in 59 ore per fargli un scherzo a USA Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi un video un po' particolare perché come avete visto nell'ultimo vlog di Tecnoid andatelo a vedere ve lo metto qua sotto l'altro giorno mi hanno veramente massacrato sia lui che i moni e oggi... chi è che ha tirato sta scopa? ma questi sono scemi ma siete scemi sì sì, ridi, ridi ridi che oggi ce l'è anche per te guarda quello là, guarda quello là ma sei impazzito? no, 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 fai male ti spacco tutto oggi oggi ti spacco tutto oggi... oh, fermo, fermo, fermo mi fai male, mi fai male ragazzi oggi li distruggo ve lo giuro ragazzi oggi li distruggo a tutte e tre mi hanno rotti i coglioni USA l'altro giorno mi ha buttato in piscina insieme a quel merda di Moni e a Tecnoid gliene devo compiere guarda, guarda, guarda prendi la scarpa prendi la scarpa la prendo io, la prendo io, la prendo io la scarpa va bene, la prendo io, va bene sì sì, vedi, vedi Moni la scarpa vabbè, come vi diceva ragazzi stiamo andando a farci un girato loro non sanno niente in realtà non dovevano neanche sapere di questo video però mi hanno già scamato guarda Moni in realtà qui stavo messendo a Moni però vi giuro ragazzi che oggi io ne compino di tutti i colori venite con me adesso incominciamo subito dalla macchina adesso io a lui me lo metti da per favore sì ma come sto con il cappellino stai benissimo, fatti vedere ok, ok, ok bello che sei dai volo basare scelgo te ciao Usa come stai? ciao, è tutto bene allora io e te dobbiamo fare un bel discorsetto dai no, fra, dai non cominciamo a me no, 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 no io e te dobbiamo parlare oh Moni, Moni, Moni no, Moni tu hai detto che eri il mio alleato hai detto che il Tecnoid infame mi lasciate noi mi ricordi, mi ricordi, mi ricordi ti vede ieri devi lasciare stare Tecnoid dimmi, dimmi dimmi, che cosa vuoi ragazzi guardate no, l'ha fatto veramente torna indietro, carattino oh, ma non mi tirare la maglietta torna indietro il cappello no, vai, vai vai vai, vai ma che cazzo dici vai, da prendere il cappello adesso è un regalo per qualche faccio oh, 100 euro posta oh, non mi tirare la maglietta heavy climb heavy climb ma ti spacco la macchina, giuro ma scusa, ma attenti ma ti spacco la macchina ma ti spacco la macchina ma ti ho tirato lui e mi rompi il cazzo a me no, 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 Moni oh, ascolta apri qua e fallo uscire vai esci fuori ma dai ma ti caglia addio addio amici addio sei solo uno scemo ogni volta Frasa la prende con me ogni volta deve rompere le palle a me vieni dai, sali dai vieni giuro che andiamo via giuro si, io vado oh, ti butto il tuo telefono sull'erba oh, andiamo via ma che vieni qua vieni, muoviti come faccio a fare manovra che devo andare in là muoviti dai, muoviti oh, fra me la parte ti giuro che sta oh, fra me la parte oh, fra me la parte mi picchia tutti vieni qua scemo, vai via dai, muoviti Alve muovi, scemo ti fa ridere? ma perché tu mi picchi a me? ma perché mi picchi a me? vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ci vieni a buttare di nuovo è al colmo è talmente facile farle dalve non è facile hai visto? coglione no, dai, me la rifà no, dai, me la rifà no, veramente, fra no, veramente, fra no, veramente, fra c'è andato tutto oh, scemo ci mettiamo in quarant'anni, raga è mio, coglione della credit line costa 150 euro con il cappellino di merda è la salita no, sono stato io è stato lui è stato lui dai, muoviti no, sì, sì vado fino a lei ciao ma ce l'hai le chiavi, lui? ma perché siete male? fallo salire fallo salire andiamo a prendervi la pacchetta allora è arrivata la salita andiamo noi a prendervi la macchina ma perché mi devo alleare con te che mi hai rotto le palle prima? ti conviene oggi perché questo video qua è dedicato a te è un investimento adesso proprio sì che lo farò, fra andiamo molto adesso dopo che mi hai picchiato proprio sì che lo farò muoviti andiamo guarda che continuo fra mi picchi sempre non ti sto picchiando è una carezza sulla fronte ma tra poco te le do io ogni volta che in tutti i video sei sempre violento e io faccio la vittima e io faccio la vittima e io faccio la vittima ti giuro che lo faccio la vittima no sono tutte e due di Moni pensa davvero? si oh mi ha picchiato ancora eh ma cosa vuoi da me? cosa vuoi da me? che prende il telefono? no 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 dove vai? dove vai? il mio cappello il mio cappello lo farò prendere dove vai? stai giù stai giù stai giù stai giù fra che te ne mollo uno ti lascio mi hai tirato tre sberle qua eh devi aprire il mio cappello pure dai ragazzi siamo in ritardo ci fai ci fai ci fai ci fai ci fai ci fai hai due tu dove è che me le tiro? io qua te le tiro ma dove vai? ma dove vai? ma dove vai? ma dove vai? mi ha picchiato vai ah sì? ah sì? allora ciao e che mi scusa? o mio padrone allora ciao o mio padrone o mio padrone o mio padrone o mio padrone poveretto vai ragazzi stiamo ritornando guarda da smettiti di infastidire chi da mi faccio di andare a piedi fino a qua eh basta infastidire chi qui eh devi fare un po' di sport un po' di camminare uh che è il cazzo che è tutta colpa tua eh se non faccivi questi giochi di niente io tutta colpa tua ma tu sei il pozzo ma tu mossa tutto 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 quello che ti ha fatto nel nascono il vino non è niente te lo giuro fra tu avrai peggiori scherzo ragazzi guarda cosa vi dico cento commenti e 1.000 like in 59 ore per fargli scherzo a usta bravo così io ho al cavallino è la strada tocca a me che la strada Tocca mica la testa Quanta cosa c'è? No, io... No, ti ho spuntato veramente Ok, vai, sono già pronto Non fermare la registrazione No, no Io sono pronto Vai a riscaldarti tu nel frattempo Vai, vado già giù Dove vai, dove vai tu? Dove vai? Dove devi andare Dove vai? Riccardo, ricco, vieni a te Vieni, vieni con me Tu lo ammetto, le scarpe I calze mi servono Non ho chiesto più di calze Ma non... Vabbè Allora Sì, mi demente Andiamo a fare l'attività fisica Hop, 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 hop Hop, hop Ai, ai, ai Porca troia Ai, 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 ai Mi tocca correre oggi Sai che ho già vinto, vero? Mi stai riprendendo Vaffanculo Vaffanculo Che poi se non per un pira Ho anche il flash acceso Ma dobbiamo correre così col telefono Sì Quindi è ancora più difficile È un allenamento per i youtuber questo Questo Per chi vuole diventare youtuber Dovete fare questo allenamento Dovete correre col telefono Da oggi inizia questa nostra preparazione Precambionetto Non voglio vedere se qualcuno Mi vedo col telefono giù così Finalizzato, eh Poi Ma io metto già così così almeno non mi stanco 50 euro subito E metto noi qua, eh Guardate Vedete i 50 euro Primo che arriva Entra dentro il cancello Si troverà Ma da dove si parte? Si parte dalla linea da lì Vite Come fai tutto il giro e torni qua Ok? Ma il giro di dove? Ci siete? Ok Vi spiego Del quadrato Sì, quadrato Fatti fino a là Ok Ma è tantissimo Dove c'è l'incrocio Incrocio, vai dritto Incrocio Ma sei scemo? Ma così scello, pronta Lo sono scemo Questa è la sfida, frate Tu devi preparare la sfida Poi potrai fare il tuo Posso lavorare io con i ragazzi? Sì, devo andare a lavorare Io non parto per prima Ah, comunque Sono dimenticato Per tutti L'ultimo che arriva C'è la penitenza Il primo è quello Che fa fare la penitenza All'ultimo C'è l'alve Che c'è la mano al braccio Sto tenendo le forze Tu veramente Sto tenendo le forze Ragazzi La linea è questa qua Ok Ok Ma si gira così Si gira così Si gira così Si torna qua Quel primo che entra nel cancello Ha vinto Ok Ok Partiamo tutti insieme Sì, partiamo tutti insieme Ci siete? Mettetevi in una posizione Non fate incidenti per favore No, no, no Fate sgambi e tessi Spacco le gambe Allora, nei miei video Non provare A fare qualche trabocchetto No Usa, tienilo con la coda Allora, ricapitolando Tutto il giro E si entra E si entra Ok, vai Ok 3 3 Dallo tu 3 2 1 Via Via No, no, no Non vale Non vale, zio Sono volendo Mamma mia Che sono malati Non sono ultimo No, no, no No, no E giuro E giuro che gliela metto Nella stanza Ragazzi Come si svegliano Cosa mi combineranno Perché ragazzi La cacca di via Fa schifo Puzza Ma sti tre cani Devono soffrire Come delle merde Si devono svegliare Con l'odore di merda Dentro le narici Bello Ragazzi Questo è lo scherzo migliore Che io possa fare Veramente Ve lo giuro Anzi sapete cosa vi dico Sapete cosa vi dico Gliela metto proprio Di fianco al naso Sul cuscino Ve lo giuro Gliela metto proprio Di fianco al naso Chiaramente lo devo oscurare Ragazzi Perché non so Se la cacca Si può far vedere Su youtube Però Io lo oscuro E gliela metto Lì Madonna Madonna Che soddisfazione Meravidiota Io spero anche Che mentre si girano Ci vanno dentro Con la faccia Finite con me Che andiamo a raccogliere Adesso andiamo A raccogliere A raccogliere Tutta la cacca Che dovrebbe essere Quasi piena Allora Eccola Una Due Tre Ma che belle Una Due Tre Quattro Guarda quanta merda Che bello Che bello Quanta merda Che abbiamo Ragazzi Via Iniziamo subito A raccogliere Via Allora Una La raccogliamo E la facciamo Un bel involucro Che andiamo A mettere dentro Eccola qua Ma che meraviglia Una Mamma mia Che puzza In chiambia Fai schifo Comunque Probe a Fatti curare Mamma mia Zia Cioè Sto vomitando io Cazzo Ok Ok Le tre bombe Sono pronte Le tre bombe Sono pronte Adesso andiamo su Le mettiamo di fianco Alla stanza Ragazzi Che spettacolo Che meraviglia Stiamo su Mamma mia Mi devo far morire Di puzza Di merda Quindi ti vedete Che andiamo Nelle stanze Cominciamo col primo E la andiamo A mettere E la andiamo A mettere Sua Dussa Ok Siamo arrivati Davanti alla stanza Di dussa Ragazzi Merda in mano Che schifo Mamma mia Che schifo Che schifo Allora Che schifo Tra la colazione E cazzi Che schifo Allora Allora Ascoltami Ascoltami Mi faccia perdonare No 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 Oddio Che schifo Fra 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 Ho bisogno Di mettere la parola Con le trazioni E devo dormire Per una volta Che dico Dai Voi dormire A te quattro Nel cilio È buona La cacca di mia Fra l'ho fatto per te È la tua colazione Assaggiala Adesso Lo vado a fare a Mone Al tecno Al tecno Lo facciamo Perché lui Ha già fatto Quello della merda Ti ricordi cosa Mi hai fatto in macchina Il cappello Che mi hanno lanciato Questo è il motivo Questa è la mia vendetta No 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 Ti prego No in faccia no Ti prego No no Io entro messo in faccia Tra ti giuro Che non ti faccio Dormire mai più No Madonna vanno a farla Mone Andiamo dai Poi lo vanno a fare Vai Schifo zio Guarda la colpuzza Che ci ha salvi Oh 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 No Fai 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 Che scopo! Vabbè, davvero puzza! Vieni qua! Tanti dieti ammazza! Non è che ti finisca! Guarda che tanti ammazza! No, ha detto che non glielo facciamo ammattacchi, invece glielo facciamo! Guarda si cazza! È un buon! Ciao! Che cazzo di prodello fate? Emoni! Guarda! Guarda che cazzo è con bilancio, guarda! Oh, scemo! Dai, vieni! Dini un po'! Come hai rompere i coglioni? Che schifo! Dai che sviene lui così! Ci serve! Oh, la mano putta di bella! Oh, non mi toccare tu quella! Ma come si sta vomitando! Mi scherzi da coglioni proprio, no? Bello! Io credo che avevo detto! Ah, io attento! Oddio! Stiamo arrivando alla fine del video! No, no, no! Lo dici da ora! Ora, stai dentro a fine! Ora, te ne scubacciate! Uno! Due! Ora, te ne scubacciate! Mi devo sentire sul treno! No, no! No!